Cari ragazzi, 11 dicembre 2018, il trionfo continua, siamo qui davanti alla nostra isola Sandrino, tattico, già catturato 7 luci e 22 persici, non male, tutti lasciati andare naturalmente, siamo dei veri pescatori, stupendo, Montisola ci bacia, la favola continua, che bel campà, Sandrino, che bel campà, a Dalle che rocce, il tutto sui 16 metri, scatture strepitose, potremmo anche tornare già a casa, una trentina di catture dai che stupendo, basta stupendo, favoloso, favoloso.